Non è stato poi così cattivo Mangiafuoco? Certo, un po' burbero è, però in fondo non è male. Ma che spavento! Per la prima volta a Piacenza, il Teatro Umbro dei Burattini è sbarcato in città, e più precisamente sul palcoscenico del Teatro Presidente, con lo spettacolo Pinocchio, l'avventura di un sognatore. Dietro le quinte del Teatro Piacentino abbiamo incontrato Andrea Bertinelli, regista e ideatore della compagnia, che assieme ad un collega anima da sotto il palco lo spettacolo apprezzato ormai da tanti anni dai bambini di tutta Italia. È sicuramente la classica favola di Pinocchio, ormai famosa in tutto il mondo, ma nel nostro copione abbiamo dato una lettura anche tenendo presente l'attualità. Quindi il burattino più famoso al mondo conosce i sogni e i giochi dei bambini degli anni 2000. E soprattutto la particolarità del nostro spettacolo, Pinocchio, le avventure di un sognatore, è quello di creare una interazione con il pubblico. Chiediamo l'attiva partecipazione dei più piccoli e anche dei più grandi a partecipare, a rispondere alle domande dei personaggi, dei burattini, che sono 11 burattini di grandi dimensioni che sono stati costruiti da un anziano artigiano torinese. Una rilettura moderna, tenendo presenti quindi anche i social network, problemi come il bullismo, il problema come soprattutto la solitudine dei più piccoli di fronte a tutte le nuove forme di comunicazione. Come si fa a trattare un problema così delicato? Si può trattare parlandolo in modo semplice, perché il nostro target di pubblico va dai bambini di 2 ai bambini di 10 anni. Quindi lanciando questi messaggi in modo molto semplice, chiaro e soprattutto anche in maniera simpatica. Quanto rimarrete poi qua in città? Domenica sarà l'ultimo giorno qui a Piacenza e presenteremo tre spettacoli. Quindi vi aspettiamo con uno spettacolo la mattina alle 11 e nel pomeriggio alle 15.30 e l'ultimo alle 17.30.